Smart Pompei nasce da un'idea ben precisa, che è frutto di tutto quello che è stato realizzato in ambito tecnologico grazie agli investimenti comunitari del grande progetto Pompei, soprattutto in campo nell'ambito della sicurezza, quindi della security e della safety. Smart nel senso che quello che stiamo facendo è realizzare una piattaforma, un sistema che correla tutta una serie di componenti tecnologiche, di infrastrutture, ma non solo, anche di informazioni, di dati, in modo tale che il parco archeologico possa essere meglio gestito in termini di sicurezza, di safety, quindi anche di valorizzazione e di fruizione. L'obiettivo è proprio quello di realizzare un modello, un dimostratore tecnologico integrato finalizzato alla gestione della sicurezza delle persone, dei monumenti, sia in condizioni normali, sia in condizioni di emergenza. Per Mystone Pompei, essendo uno dei siti archeologici più importanti al mondo, ovviamente è un traguardo dove la nostra piattaforma riesce a erogare quelli che sono dei servizi e delle soluzioni in grado di risolvere problematiche di vari tipi, che possono essere dalla sicurezza alla safety, controllo e il monitoraggio delle persone all'interno del sito, e supporta chi del Ministero sta sviluppando questo progetto a inserire nuove tecnologie in grado di soddisfare esigenze sempre più verso il visitatore, sempre più atte a proteggere sia i beni che comunque le persone che lo visitano. La piattaforma di Mystone, quindi i sistemi che Mystone ha messo a disposizione della nostra amministrazione, che hanno un valore importante perché sicuramente rappresentano quella piattaforma attraverso la quale noi possiamo integrare con Reale non solo i sistemi di videosorveglianza, ma tutta un'altra serie di asset che sono e riguardano questo tema appunto della safety e della security, che per noi rappresenta il focus più importante. Grazie a tutti!